All'interno del varco era completamente buio. Serafita sbatteva continuamente le palpebre, come se questo movimento potesse in qualche modo riaccendere la luce. Sentiva lo stomaco contorcersi dalla paura, e l'unica cosa che le permetteva di mantenere la calma era la presenza di Mykonos. L'uomo le stringeva la mano con forza inaudita, trascinandola chissà dove. A differenza di Serafita, infatti, Mykonos procedeva nell'oscurità con passo deciso, come se lui vedesse chiaramente la strada da seguire. Provò a formulare una frase con l'intento di attirare la sua attenzione, ma le parole le morirono in bocca tanto era agitata. Sentì freddo, e poi caldo, e poi di nuovo freddo, sebbene non ci fosse nessuna corrente d'aria che potesse generare simili cambiamenti. Muoveva i piedi senza sapere cosa stesse calpestando, indugiando a ogni nuovo passo. Sperava che il viaggio sarebbe stato breve perché già l'emozione che aveva provato nella baracca si stava spegnendo, sostituita dal terrore che le parole di Mykonos sull'oceano, i vulcani e tutto il resto potessero avverarsi. Che cosa credeva? Che all'interno del portale ci fosse una bella strada battuta da carri e viandanti e con siepi ben curate a costeggiarla? Poi, con un certo orrore, si accorse che qualcosa ai suoi piedi strisciava, sfiorandole le caviglie. L'istinto fu quello di guardare il pavimento, tuttavia la cecità non le permetteva di capire di cosa si trattasse. L'inquietudine allora aumentò, e mentre lei tentava di fare finta di nulla, i suoi piedi cercavano di allontanare lo strano essere che continuava a disturbarla. «Mykonos!» gridò finalmente, liberandosi di tutta la voce che aveva trattenuto fino a quel momento. Fu come se avesse urlato al vento. L'eco delle sue parole risuonò nel silenzio per poi spegnersi, senza che l'uomo si girasse o desse l'impressione di averla udita. «Mykonos!» ripetè, tirandogli la mano, ma lui sembrava non sentirla. A quel punto percepì il pavimento muoversi nella direzione contraria a quella che stava seguendo Mykonos. Per un attimo, Serafita credette che sarebbe caduta, poiché la spinta inaspettata l'aveva colta di sorpresa. Tuttavia riuscì a mantenere l'equilibrio, e cominciò a velocizzare il passo nella speranza di stargli dietro. «Mykonos!» urlò ancora, con il respiro affannato, ma l'uomo proseguiva per la sua strada e non accennava a fermarsi. La cosa ai suoi piedi nel frattempo aveva cominciato a risalire lungo le gambe, trasmettendole una fastidiosa irrequietezza, accompagnata da brividi di freddo e vampate di caldo. «Mykonos! Mykonos! Mykonos!» chiamò con quanto fiato avesse in corpo, mentre la cosa le aveva raggiunto le spalle e si insinuava strisciando sulla nuca. «Dimmi!» Qualcuno sussurrò nel silenzio, una voce profonda e gracchiante, per nulla simile a quella di Mykonos. «Ah! Dimmi! Desideri tu vivere un ricordo?» Serafita sobbalzò dallo spavento, perdendo per un attimo il controllo sulle sue gambe, che cedettero, rischiando di farla finire per terra. Trascinata da Mykonos tuttavia riuscì a evitarlo, e ritornò a rincorrere il pavimento, che continuava a sfuggirle da sotto i piedi. «Tu desiderio lo so io sento ogni cosa!» «Rattene!» esclavò Serafita, arruffandosi i capelli con la mano libera, come se la cosa fosse una mosca che le rozzava attorno. «Io sento, desideri tu, io posso svelarti il passato, il presente, il futuro. Tu puoi, se accetterai il prezzo!» Inaspettatamente nacquero nella mente di Serafita numerose domande che pretendevano delle risposte. Era come se parte di lei volesse a ogni costo accettare quell'offerta, generando la richiesta. La tentazione era così forte, che per un attimo Serafita credette che avrebbe ceduto alla magia, giacché sentì le sue labbra muoversi, cercando di formulare quel sì che Mykonos le aveva sconsigliato di pronunciare. Dovette fare ricorso a tutta la sua forza di volontà per dire «No!» e spezzare così il senso di oppressione che la stava tormentando. Di colpo scomparve anche l'oscurità, e Serafita si ritrovò stesa a terra, sorretta per la testa da Mykonos. Ottimo lavoro. Si congratulò.